Venghino, signori, venghino, si vendono le auto blu all'asta. Abboliremo anche l'IGI. C'è anche l'abolizione del CNEL. Insisto, non ci saranno più bollette del gas e aggiungo aboliremo anche quelle della luce, crepe l'avarizia. Il costo dell'energia per le PMI, che vale circa 14 miliardi di euro, verrà rivolto del 10%. E se non siete contenti toglieremo la tassa sulla spazzatura. Diminuzione di tasse. Il bollo dell'auto e l'assicurazione. Il 10% in meno di IRAP, il 10% in meno di energia elettrica. E l'aboleremo di nuovo, abolita due volte, ecco qua. Giù la tassa sul lavoro. Daremo mille euro a persona. Dieci milioni di italiani che vanno a prendere 10 miliardi di euro su base annua. Che vuol dire mille euro su base annua. Mamma, mamma. Due mila. Bravo! Vedrete che le aziende pagheranno un miliardo in meno. Imbianchiamo la casa di tutti, gratis. Questo miliardo e mezzo va speso, c'è. Torneranno anche i pesci spada sulla costa. Effettivamente il tema del pesce rosso è un punto fondamentale. Porteremo barche di pilo, navi cariche di pilo. Insommamente, fortissimamente pilo. Vi vedo perplessi. Insomma, nel bene.